Look Alessandra Celentano, capelli veri o parrucca? La scelta della prof e le reazioni Alessandra Celentano ha nuovamente stupito il pubblico di Amici con un nuovo audace look, le reazioni e le comparazioni dei social Il serale di Amici 22 è iniziato lo scorso sabato 18 marzo, raccogliendo un enorme successo di ascolti e di interazioni social Fino ad adesso sono andate in onda le prime due puntate di questa fase del programma, in cui i giovani allievi stanno lottando con tutte le loro forze per poter rimanere all'interno della scuola di Maria De Filippi Oltre ai cantanti e i ballerini, tra i protagonisti della trasmissione troviamo i sei professori Arisa, Raimondo Todaro, Emanuello, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano Quest'ultima, in particolare, ha attirato l'attenzione del pubblico, usando con un nuovo sorprendente look Già nella prima puntata, la maestra si era presentata con un'acconciatura totalmente nuova Un bob medio, con una frangia laterale, di un luminoso grigio, quasi platino Ieri 25 febbraio, la Celentano ha stravolto nuovamente il suo look, tenendo i capelli sempre di colore platino ma con un taglio cortissimo e una frangia che le copriva la fronte La domanda che in molti telespettatori si sono posti è, si tratta di capelli veri o di diverse parrucche? L'accelentano ha sempre abituato al pubblico ad uno stile classico, con capelli biondi e lisci e solitamente raccolti Quest'anno, però, ha deciso di stravolgere completamente il suo aspetto, almeno parzialmente Ebbene sì, perché in realtà l'ex ballerina ha dichiarato di aver deciso di indossare delle parrucche Nella prima puntata del serale, Maria De Filippi ha subito individuato il cambiamento e ha chiesto alla collega se si trattasse di una parrucche L'indvocolo ha intuitivo di indossare delle parrucche Grazie a tutti. Grazie a tutti.